tutte le forcelle delle moto in commercio hanno sostanzialmente sono divisi in due parti quindi stelo fodero rovesciata o convenzionale non cambia niente che sostanzialmente è la parte che scorre e crea la guida praticamente la direzione della ruota ed è una parte se vogliamo secondaria il cuore della forcella la parte più importante quella che ci dà la sensibilità quella che ci regola l'affondamento che ci controlla la moto che ci mette la moto in posizione è l'interno della forcella che normalmente viene chiamata cartuccia qui abbiamo esposto la gamma delle cartucce andreani sono cartucce che produciamo da tanti anni dove tutti i miei tecnici hanno messo veramente il cuore perché abbiamo riportato tutte le nostre esperienze per cercare di dare il meglio e quindi fondamentalmente come dicevo prima il lavoro di una cartuccia è quella di garantire una buona sensibilità quindi la moto deve essere sensibile sullo sconnesso non deve trasmettere quella brutta sensazione alle alle mani e contemporaneamente quando si arriva in frenata la forcella non deve cedere perché se la teniamo morbida e sensibile ma poi quando arrivi a frenare hai la moto che ti parte veloce sei tutto caricato sul davanti deve essere bella controllata deve essere dura diciamo in quella situazione altro punto importante di una buona cartuccia che in percorrenza di curva ti porti la moto nella posizione giusta perché se la moto sta troppo alta abbiamo difficoltà a curvare se sta troppo bassa siamo a rischio perché la moto ci può prendere sotto quindi queste sono le tre componenti importanti di un buon di un buon prodotto nella gamma andreani negli anni siamo riusciti ad inserire tutte le moto quindi abbiamo l'ultima arrivata che sono la cartuccia per le forcelle big piston che normalmente sono montate su tutte le ipersportive quindi suzuki kawasaki honda hanno questa forcella che viene chiamata big piston perché il pistone scorre direttamente dentro lo stelo e quindi abbiamo la gamma completa perfettamente intercambiabile in maniera facile si toglie l'originale si avvita questo e poi abbiamo la gamma per tutte le moto da mini cross la gamma marley davidson che migliora in maniera importante il confort di queste moto e poi c'è la classica cartuccia che viene montata abbiamo oltre 200 applicazioni quindi tutti i grossi scooter tutte le naked bmw tryon ducati abbiamo veramente una gamma molto molto completa sostanzialmente sostituendo questa parte una forcella che può essere media di medio valore di basso velo così diventa una forcella importante perché l'interno come detto primi il cuore quello che lavora quello che determina posizioni affondamenti e sensibilità e questa parte e quindi sostituendo la cartuccia qualsiasi moto voi abbiate portate immediatamente l'efficienza della moto ad un livello ad un livello alto ciao